Chiuso l'accordo in casa Dinamo per la permanenza di Stefano Gentile in maglia bianco blu fino al 2021. Arrivato a Sassari lo scorso anno con la firma di un contratto biennale, Gentile ha giocato una delle sue migliori stagioni, soprattutto nella seconda parte, da giocatore maturo, continuo e sicuro dei propri mezzi. Cuore, grinta, intensità ma anche mentalità e fisicità sono il marchio di fabbrica di un giocatore che sa sia creare per la squadra sia trovare soluzioni offensive individuali. Elemento duttile e di grande importanza nel gruppo sia in attacco sia in difesa può uscire dai blocchi, giocare il pick and roll, giocare da play o da guardia o anche dalla piccola occorrenza. Sa essere difensore di grande affidabilità in grado anche di marcare il post basso nei cambi difensivi. Ha ottimo tiro da tre punti e quando entra in striscia può fare punteggi molto alti come dimostrato in questa sua prima stagione in bianco blu.